Sta per prendere il via il festival dedicato al benessere dell'individuo e dell'ambiente che si svolgerà dal 23 al 25 settembre al Museo delle Mille Miglia a Breccia con percorsi per adulti e bambini. Ai nostri microfoni Paola Castellani, referente e organizzatrice dell'evento. L'obiettivo della fiera è fondamentalmente proporre tutta una serie di discipline bionaturali e creare anche quella che è una sinergia con quella che è la medicina normale attraverso la prevenzione attraverso una fiera che si dedica al benessere degli individui, dal bambino all'adulto, all'anziano e al disabile. È una cultura che ha incominciato e già iniziato ad essere estremamente apprezzata per quello che la stiamo proponendo in collaborazione con altre associazioni e altri enti e società. Proprio la scelta è lavorare a 360 gradi sul benessere, patendo dalla famiglia, arrivando fino a quello che è l'ambito professionale e le stesse istituzioni. Tanto è vero che lo stesso tipo di evento ospiterà da una parte tutta una serie di espositori, trattamenti, una sezione conferenze e workshop, poi abbiamo una sezione che è dedicata al corpo, una sezione dedicata ai bambini e un'altra sezione al benessere nell'ambito professionale ed istituzionale. Grazie.